Questo anno 48 di Angelo di Quarto, provincia di Napoli, me l'ho mandato con un altro Angelo che abita qui in zona, a cui ho fatto pure dei lavori su altri apparati, sono autisti che lavorano insieme al nord Italia, dobbiamo mettere il doppio modulatore dentro, mi dicevo però nella foto che segue, perché Angelo non quello di Quarto ma questo qua mi ha fatto vedere la fotografia che gli hanno fatto internamente e ho la sensazione che il doppio modulatore, il mio e il super modulatore, non lo possiamo mettere a motivo dello spazio, perché è stato occupato non secondo i criteri, dalle schede che sono state messe. Guardate la fotografia che segue, perché l'ho incluso qui nel video. Angelo sto provando, prima di fare qualche accosto sto provando la radio dell'amico tuo, quello con gli coperchi bianchi, allora questa è la potenza che dà, sono 7 watt, importante fissa, 15 watt, 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 15 watt però evidentemente non hanno cambiato gli altri componenti cioè la resistenza il condensatore che di solito si sostituisce per aumentare la potenza c'è questa carta qui che serve per isolare la scheda dal resto del circuito questo cartone qui questo dovrebbe essere Roger Beep che hanno messo in una scatoletta a me è appoggiato qua così in questo modo io non lo tocco per paura di fare danni quindi quello che posso fare io è cercare di migliorare poco poco la modulazione e la portante più di questo io non vado a toccare per paura di fare guai più grossi allora ho messo la resistenza anzi ne ho messo due insieme formano un ohm il condensatore da 330 picofardi qua ho fatto la regolazione delle bambine variabile da quest'altra parte ho messo questo condensatore da 12 picofardi e adesso vi spiego il perché un giorno non non avevo nulla da fare allora invece di andare a farla dall'altra parte prima che arriva visto che c'è l'età prima che arriva la demenza senile sfruttando quell'unico neurone attivo che mi è rimasto scherzo ci faccio pure qualche scherzo ecco consultanti vari schemi elettrici che ho sul computer sul pc per per passare il tempo tra questi o anche quello dell'alna 48 del 68 della midland per intenderci la mia curiosità si è concentrata proprio visto che ne faccio diversi alana 48 su questi questi asterischi che si vedono qua per esempio questo asterisco qua c'è quest'altro qua asterisco un altro asterisco qui qui 316 qui 318 e quindi che devo dire per esempio questo qua no 316 no c'è un asterisco perché quando hanno fatto lo schema elettrico oppure quando hanno costruito la radio poi sullo schema hanno messo questo questo asterisco ecco questo è un condensatore da 82 picofalde che dal pre finale come si vede qui dal pre finale va a pilotare il finale di trasmissione questo qua come abbiamo detto da 82 picofalde di solito quando si fanno le modifiche si sostituisce con uno da 330 picofalde insieme alla resistenza R322 da 10 ohm che poi la mettiamo da 1 o da 2,2 ohm quindi se su questo componente l'asterisco lascia intendere che cambiando la capacità ci sono delle migliorie naturalmente sostituendo anche il finale perché non dobbiamo provare a cambiare anche la capacità di quest'altro condensatore ora siccome che i valori di questi ceramici sono prestabiliti tipo per non allontanarci troppo da questi valori 100 picofalde 120 picofalde 150 picofalde 180 picofalde 220 picofalde 270 picofalde e così via per quanto riguarda il c318 non c'è un ceramico con un valore compreso tra 220 il valore suo e 270 picofalde per esempio non ce n'è uno da 240 dici io tolgo questo e metto l'altro oppure uno da 250 tolgo questo e metto l'altro non c'è il valore standard da sono 220 picofalde e 270 picofalde quindi se si cerchi il valore ideale aggiungendone uno in parallelo ci dovrebbe essere qualche miglioria oppure togliendo capacità magari mettendone uno più piccolo di 220 picofalde diciamo 180 picofalde poi se ne aggiunge uno per arrivare a 200 picofalde perché non sempre bisogna aumentare ma può darsi che per migliorare bisogna pure diminuire la capacità allora personalmente prima di completare il lavoro quando mi chiedono di aumentare la potenza faccio diverse prove con un valore che vanno da 10-12 picofalde sino a 33 picofalde poi quello che risponde meglio lo lascio nel caso qui dell'apparato delle radio di angelo sono bastati 12 picofalde poi ho fatto la regolazione delle bobine variabili e il risultato adesso che andiamo a provare è palpabile detto questo passiamo alla prova della radio ed ecco il sepolcro imbiancato tanto per essere nel periodo bello di fuori e pieno di ossa di morte all'interno però l'abbiamo reso presentabile anche esternamente quindi rispetto a prima abbiamo questa potenza sono quasi 10 watt 20 22 in modulazione prova 1 2 3 cambio con la frequenza ci siamo quello 1 ce lo prendiamo qui stiamo pure a posto c'è un po di eco prova 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 non l'ho toccata la scheda eco i motivi l'ho descritto prima perché se vado a toccare lì vengono fuori altri guai e poi è meglio lasciarla così ho messo un po' di illuminazione per una pervenza di pulito e va bene così ho altre radio lì di angelo che devo fare però non adesso perché ho altri lavori prima dei suoi quindi angelo calabrese poi quando torna la prossima volta magari se riusciamo a risolvere gli altri apparati te li porti per adesso poi quando sale su ti porti questo qua grazie per aver visto questo video e vi auguro una buona giornata anche oggi grazie 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 grazie